Vuoi montare e fare supplementare sulla tua moto ma non sai da che parte cominciare? Benvenuto in questo nuovo video, oggi andiamo a vedere proprio un tutorial su come installare i fari aggiuntivi sulla tua moto. Ultimamente sta diventando un accessorio fisso di tutte le Tourer e Sport Tourer e parlo dei fari aggiuntivi che sono questi qua per intenderci, faretti che spesso si vedono su queste tipologie di moto, ce ne sono un'infinità di tipi di modelli a led, halogeni, ce ne sono veramente di tanti tipi ma di base l'installazione è sempre la stessa, sia a livello di tipo di kit faretti che di moto ovviamente, la logica è sempre quella. Riguardo alla complessità del lavoro, in realtà varia in base, quello varia sì, in base alla moto che abbiamo e in base al kit che compriamo. In questo caso il kit me l'ha portato direttamente al proprietario della moto che gli sto facendo un tagliando e con l'occasione gli montiamo questi faretti, me l'ha portato lui, è un bel kit con già tutto cablaggio completo. Poi ovviamente come sempre vale la regola che è meglio spendere qualcosina in più e avere della roba fatta bene, è già pronta in modo da aiutarci a non impazzire nell'installazione. La base ricevo uguale per tutti, quindi dobbiamo andare a ovviamente montare meccanicamente i faretti, in questo caso sono già montati, ci ha pensato il proprietario a piazzarli nella posizione che più gli piaceva e andare a cablarli e interfacciarli alla moto in modo da poterli ovviamente accendere e spendere dal manubrio. Quindi servirà sicuramente un interruttore e per questo parlavo di kit perché in questo kit ci entra veramente tutto. Un interruttore che andrà posizionato a manubrio, un cablaggio per le varie funzioni e nei kit fatti un po' meglio tipo questo c'è anche un relais e adesso vi spiego il perché. Un relais in sostanza è un dispositivo che va a chiudere un contatto utilizzando una bobina secondaria, utilizzando un altro contatto. L'idea di montare un relais è abbastanza furba come cosa. In pratica noi andiamo a interrompere non direttamente l'alimentazione dei faretti ma andiamo a interrompere l'alimentazione del relais. Quindi quando noi andiamo a zionare il pulsante non andiamo direttamente a chiudere un contatto con i faretti ma andiamo a chiudere un contatto sulla bobina del relais che va a sua volta a chiudere un contatto e va a portare l'alimentazione dalla batteria ai faretti. Quindi abbiamo una linea, chiamiamola di potenza, quindi dove c'è l'assorbimento dei faretti che va diretta dalla batteria al relais e dal relais ai faretti. E poi abbiamo una linea che è quella del relais che va dalla batteria, quindi prende comunque un 12 volt, è un negativo altrimenti non potrebbe funzionare e tramite il pulsante si va a collegare, si va a attivare il relais e quindi a chiudere il contatto sulla linea dei faretti. Siccome abbiamo due modi di installare i faretti o meglio di cablare i faretti ovvero diretti a batteria quindi si accenderanno e spegneranno sempre anche quando la moto è spenta oppure cosa che consiglio di fare, possiamo installare la sottochiave quindi una volta tolta la chiave dal quadro non ci sarà modo di accendere i faretti. È più sicura come cablaggio, è più sicuro quello di mettere sottochiave per un'infinità di motivi, primo è quello di cercare di evitare che possiamo dimenticarci li accesi e quindi scaricare la batteria ad esempio, magari inavvertitamente non ci accorgiamoci e li dimentichiamo accesi e anche per avere una linea comunque che quando togliamo corrente, chiudiamo il quadro, non c'è tensione da nessuna parte su quella linea. Con il relais possiamo alimentare i faretti, la linea dell'alimentazione dei faretti direttamente dalla batteria con i cavi in dotazione che sono di sezione adeguata e il segnale per l'attivazione del relais possiamo prenderlo da qualunque parte, anche da una linea con poco carico disponibile perché comunque il relais ha un assorbimento veramente minimo. Vediamo come è fatto il cablaggio, l'ho messo qua. In questo kit c'è il cablaggino già bello che pronto e abbiamo il pulsante che va piazzato manubrio. I fili del pulsante vanno al relais che è questo, uno va al relais e l'altro va messo un positivo sotto chiave, cosa furba, c'è una protezione con un fusibile, molto bene. Dopodiché abbiamo l'altro cablaggio che è questo qui, che è questo qui, che è semplicemente positivo e negativo andiamo di ammettere direttamente alla batteria o anche al positivo alla batteria, negativo anche a massa ma siamo più comodi se mettiamo tutto alla batteria ed infine la linea che è questa, che si sdoppia, che va ai due faretti. Questo è un bel kit fatto anche bene, poi ovviamente c'è dentro anche delle minuterie tipo fascette, guaine termorestringenti, dopo li vediamo. Prima cosa da fare è smontare perché potremmo riuscire a passare i cavi anche così ma non abbiamo la certezza di farli passare nei punti giusti, nei punti dove non siano stressati ad esempio termicamente dalla vicinanza del motore, che non siano stressati in passaggi con delle curve troppo strette, con degli strozzi che non vengano schiacciati perché i fili comunque anche a lavorare piegati non li fa molto bene, l'interno e il rame a lungo andare si può rompere. Quindi dobbiamo cercare di stendere le linee più ordinatamente possibile e di conseguenza a meno che non abbiamo una naked dove magari dobbiamo togliere giusto due cosine, bisognerà smontare un po' di roba, anche qui dipende chiaramente da moto a moto. In questo caso qualcosina ho già tolto, una plastichina sopra eccetera, adesso cominciamo a togliere la sella e smontiamo qualcosina in modo da avere accesso comodo a dove vogliamo far passare e anche visivamente vedere dove far passare la linea. So che è uno sbattimento, prendiamoci sta mezz'oretta per smontare. E soprattutto mettere gli occhiali altrimenti faccio veramente fatica. Qui abbiamo un bel collarino con pulsantino stagno, lo piazziamo così avremo il punto di partenza dell'impiantino. Ce lo posizioniamo dove più ci piace, qui mi sembra una buona posizione. Adesso faccio passare il cablaggio quanto più ordinato è possibile, tra l'altro questo è furbissimo perché anche questi connettori io posso, per agevolare il passaggio, staccarlo. L'impianto elettrico sempre quanto più ordinati possibili, più sono ordinati, puliti e precisi e meno rogne ci daranno. È arrivato il momento di alzare il serbatoio per far passare il cavo. Volendo potremmo anche rimuoverlo completamente ma a noi ci basta veramente spostarlo un pochino poi chiaramente dipende da moto a moto. L'ho sganciato, spostato leggermente in modo che ho accesso al cablaggio, vi faccio vedere. L'ho alzato leggermente, adesso possiamo passare il cablaggio fino ai connettori che vanno a blocchetto. Siccome c'è tanta roba di qua per evitare di far passare tutto sotto, l'ho sganciato, faccio passare questo che è un cavo solo, arriviamo fino alla fascettiamo e poi andiamo avanti. Mi raccomando con le fascette tirare piano, poco, non è necessario tirare la morte perché poi si danneggiano i fili. Verificiamo che non vada a schiacciarsi da nessuna parte ovviamente quando andiamo a poggiare a rimettere di serie il serbatoio altrimenti si taglierebbero i fili. Una volta definito il passaggio io ho sfruttato un passaggio qua sotto, l'ho fatto passare all'interno del telaio sotto il serbatoio, metto un'altra fascetta dall'altra parte per tenerlo in posizione, una o due quelle che servono e poi possiamo già rimettere a posto il serbatoio che non dobbiamo fare più nulla qua, a meno che passare i cavi dei faretti, poi dipende da moto a moto ovviamente. Per verificare se abbiamo fatto bene possiamo provare a muovere leggermente il cavo e deve muoversi perché altrimenti vorrebbe dire che è incastrato ovviamente da dopo il punto dove l'ho fascettato, è bello libero. Ok, a questo punto ci ritroviamo tutto il cablaggio qua dietro, dovremo fissare il relato, va in una posizione dove fissarla anche con una fascetta e un angolino, se non ci piace dove è messa magari le mettiamo una spugnetta di protezione, insomma cerchiamo di metterlo lì come si deve. Cosa interessante è che sulla linea che va la batteria c'è un fusibile, questo lo teniamo a portare di mano magari vicino agli altri fusibili in modo che dovessero non funzionare più la prima cosa che andiamo a controllare è proprio questo fusibile che va a proteggere la linea che va ai faretti. Questo filo verde che ci avanza è quello che dovremmo andare a mettere sotto chiave e possiamo farlo in diversi punti, possiamo prendere ad esempio un segnale, un positivo sotto chiave in uscita dalla scatola fusibili, possiamo andare a prendere volendo anche il positivo della luce di posizione posteriore o della luce targa, non ci servirà granché di carico giusto per eccitare il relè, quindi va benissimo uno di questi punti. Intanto passiamo a positivo negativo e anzi prima ancora la linea che va ai faretti, prima di collegare l'alimentazione, la mandiamo ai faretti. Dovremo sicuramente passare in mezzo sopra il motore, adesso vediamo, cominciamo a mettere il primo, il sinistro e poi mettiamo anche il destro. Per passare da una parte all'altra ho sfruttato un passaggio che c'era già da una parte all'altra. Qui c'è il regolatore di tensione, ci sono vari cavi. Se utilizziamo, cioè se facciamo correre le nostre linee dove già ci sono dei cablaggi è evidente che quella posizione, quel passaggio è sicuro perché la casa ha previsto di far passare i cavi. Quindi anche se potrebbe sembrare sopra il motore un punto critico, in realtà ci sono tanti cablaggi che passano da lì, noi ci appoggiamo a quello e veniamo fuori. Veniamo fuori di qui, adesso lo colleghiamo al faretto e mettiamo delle fascettine. Qui purtroppo essere discreti è difficile perché comunque qualche fascetta si vedrà e qualcosina si vedrà, ma non ne possiamo fare meno purtroppo. Ho utilizzato il pezzetto di guaina termorestringente che c'era in dotazione per nascondere il tutto e isolare il tutto. Adesso col fondo lo scaldiamo, così si restringe e rimane lì, ma non lo facciamo adesso. Prima proviamo l'impianto, ci assicuriamo che funzioni tutto e per ultimo facciamo questo robine qui, anche fascettare eccetera. Lo lasciamo dopo, intanto colleghiamo e vediamo se va. Qui dietro sarà sufficiente, come dicevo prima, collegare positivo, qui ho tantissimo spazio sotto il fianchetto, quindi faccio passare il cavo già dove voglio arrotolarlo, dove voglio lasciare la scorta, se riesco perché i passaggi sono sempre ostici. Eccolo qui, faccio passare sotto il telaio, lo vado a far su qui e faccio uscire da sotto il telaio, positivo e negativo, che andrò a mettere alla batteria. Ultima cosa che manca, il positivo sotto chiave, ah il relè qui e qua ci sta benissimo, ma veramente bene, di fianco al relè dell'avviamento, si fa compagnia. Il fusibile che ha un po' di cavo, lo porto vicino agli altri fusibili e rimane anche lui bello comodo da raggiungere, insieme agli altri fusibili, relè con relè, fusibile con fusibile. Mi rimane fuori solo il positivo sotto chiave che io stavo pesato di collegare alla posizione del fanalino posteriore, qui lo faccio passare e vado a collegarlo. Per collegarlo, tanto la lunghezza c'è, ma che bello, dopo ovviamente va affascettato tutto. Per collegarlo usiamo un ruba corrente che vado a prendere uno così vi faccio vedere. Eccolo qua, l'ho preso rosso così capisco, si capisce che è un positivo. È un aggino di questo tipo in cui si si va a mettere a cavallo di un filo. Si mette dentro l'altro che si vuole attaccare assieme, dopodiché si schiaccia con la pinza questa lamella metallica che va a pizzicare entrambi i fili e chiudere il contatto. Quindi andiamo in sostanza a rubare della corrente al positivo del fanalino posteriore. Come facciamo a capire dov'è un positivo sotto chiave? Ci vuole un testerino. Io uso per queste cose, uso questo rabocard, vi faccio vedere. È un pennino testa come una lampadina, l'attacco alla massa, quindi al negativo della batteria. Quando vado a toccare dove c'è un positivo, non so se si vede, si illumina. Quindi mi dirà dove trovare un positivo sotto chiave. Quindi giriamo un quadro e cerchiamo. Ecco qui si è accesa. Botta di culo al secondo filo, a parte che col colore bene o male sono sempre quelli. Per conferma però spegniamo il quadro e vediamo se si spegne anche l'alimentazione. Acceso, spento, acceso, spento. Con questo sistema possiamo cercare ovviamente nei connettori, sui fusibili, insomma ovunque. Ok, ho collegato le ultime due cavi che mancavano, ovvero positivo e negativo alla batteria. Non l'avete visto perché si è scaricata la batteria, ma quella della camera, nella dizione. Siamo pronti a vedere se funziona. Vediamo. Giriamo la chiave e azioniamo l'interruttore a manubrio. Si sente scattare il relè e si sono accesi entrambi i faretti. Va che bella luce che fanno, tanta roba, poi ovviamente andranno regolati. Allora adesso spengo, se no scariciamo la batteria. Abbiamo appurato che tutto funziona e adesso, solamente adesso, possiamo fare termorestringere la guaina termorestringente dei connettori dei faretti, fascettare i cavi, sistemare tutti i cablaggi come si deve e rimontare la moto. Vi risparmio tutta la menata di rimontare carene, eccetera. Due robe importantissime. Uno, fate questo tipo di lavoro solo se ve la sentite, avete lo spazio, due attrezzature, è vero che serve poca roba, il tempo, la tranquillità per mettervi lì a fare questo lavoro, altrimenti il mio consiglio, se avete dei dubbi, è rivolgersi ovviamente al vostro meccanico di fiducia. E roba numero due, importantissima, ancora di più, verifica se sei iscritto al canale, perché se non sei iscritto al canale, ti chiedo di farlo. A te non costa niente, non ti chiedo un centesimo, mi aiuteresti a far crescere il canale e proporre sempre contenuti di qualità, di maggior qualità e anche magari in maggior numero. Se è la prima volta che passi da queste parti, dai un'occhiata alle varie playlist e ai vari video. Ci sono 260 video caricati, qualcuno ci sarà che ti piacerà o no? E se ti piacciono, iscriviti. Come sempre io spero che questo video ti sia piaciuto, se è così like e magari condividi e se vuoi e se hai dei dubbi usa tranquillamente la sezione commenti che è qua sotto esattamente per voi. Io leggo sempre tutti, purtroppo qualcuno mi sfugge e non riesco a rispondere a tutti, siete veramente tantissimi. Mi scuso di questo, cercherò di fare meglio. Spero vi sia utile questo video per il montaggio dei faretti sulle vostre moto. Noi anche questa settimana abbiamo concluso con questo tutorial, adesso mi metto a terminare, a fascettare, a rimontare a tutta la moto. Ti ricordo che puoi seguirmi sugli altri miei social Instagram, Facebook, Telegram, TikTok. Trovi tutto qua sotto in descrizione e ti do l'appuntamento la settimana prossima. Non so se sarà uno o due video, sicuramente il video tecnico del venerdì, martedì con il video extra, non lo so, vediamo come ci mettiamo. Anche per questo video è tutto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao e grazie. Grazie a tutti.